Parte da oggi e fino a tutto il 1 gennaio 2016 a Bari il divieto di vendita in forma ambulante non nei fuochi d'artificio con esclusione di quelli professionali per i quali è necessaria l'autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza e della Commissione per Frettizia. Ordinanze di divieto sono state adottate anche ad Altamura, Gravine e Molfetta. L'usanza di far esplodere i botti è diventata un'abitudine che procura ogni anno puntualmente una serie di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana. Provocando danni alle persone e al patrimonio sia pubblico sia privato. Inoltre sono a rischio anche gli animali che con l'effetto esplosivo di fuochi pirotecnici perdono il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento e di incidenti. In accordo con il Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dichiarato il Sindaco di Bari Antonio De Caro, abbiamo emanato l'ordinanza che vieta la vendita e lo sparo di fuochi pirotecnici sia su suolo pubblico sia su suolo nelle aree private. L'ordinanza permetterà a tutte le forze dell'Ordine per la compiutezza delle indagini di effettuare riprese fotografiche, filmate o eventualmente di utilizzare riprese realizzate da privati cittadini che consentono l'accertamento della trasgressione.